ciao mi chiamo anna ho 20 anni e oggi ho avuto un attacco di panico sono un po' triste sinceramente nel fare questo video perché a me piacerebbe portare solamente contenuti belli ogni tanto sì magari qualche drama qualcosa di questo tipo però mi scoccia un po' fare questo video sinceramente mi scoccia un pochino perché avrei preferito fare un roleplay parrucchiera che era l'idea che avevo nella testa non è andata così allora sarò molto onesta in quello che vi racconterò punto uno perché se no non riuscireste a capire che cosa provo e punto due perché anche se magari quello che dico non è proprio il top è inutile dire le cose a metà o non far capire alle persone il contesto allora io sto facendo questo corso serale di psicologia e di economia aziendale insomma di servizi sociali via dicendo che vi ho sempre detto e questa sera avevo la verifica di storia sull'illuminismo tutto il periodo dell'illuminismo la rivoluzione francese la rivoluzione americana e il seicento in particolare le forme di governo del seicento quindi la monarchia assoluta e la monarchia parlamentare spiegare un po' l'astituzione in Francia e un po' l'astituzione in Inghilterra bene mi sono preparati i miei schemi ho studiato tutto mi ero fatta un bigliettino con delle parole chiave ho detto che se ho bisogno posso vedere un attimo allora che cosa è successo è vero che era anche la prima volta che facevo la verifica di storia perché prima avevo il credito di quando andavo a scuola e adesso invece no perché appunto io ho lasciato che era circa metà quarto e quindi sto riprendendo da lì quello che mi che mi manca praticamente la verifica era quattro domande aperte e potevi scrivere tanto erano domande molto discorsive e via dicendo la prof che mi insegna storia la prof che mi insegna anche italiano e quindi chiaramente devi stare triplo attento perché appunto per forza di cose io faccio la verifica ok e faccio rispondo alle domande praticamente con l'ordine con cui secondo me rispondere meglio quindi sono partita dall'illuminismo ho spiegato tutto il movimento culturale tutti i principi tutte le politiche il discorso dell'economia in Italia cosa c'era ho parlato di Cesare Beccaria ho fatto tutti i miei discorsi poi ho fatto la rivoluzione americana che anche quella la sapevo molto bene ho spiegato tutto la repubblica la federazione la costituzione ho spiegato tutto scusate sono le due un quarto di notte e poi ho fatto la domanda sul seicento l'ultima che mi rimaneva era la domanda sulla rivoluzione francese praticamente cosa è successo la prof ci ha dato tre ore però tutte le persone hanno iniziato a consegnare praticamente un'ora prima e io ero molto indietro non so me la sono presa troppo con calma non lo so cosa sia successo fatto sta che a un certo punto mancava l'ultima domanda che era quella sulla rivoluzione francese che avevo lasciato per ultima perché scomma era quella più facile da spiegare più più fast come discorso e iniziava in un attacco di panico lì al corso a scuola e non ho detto niente a nessuno non ho detto niente a nessuno e praticamente che cosa cosa mi succede quando viene questo attacco di panico non è tra l'altro la prima volta è che mi succede mi è successo anche altre volte durante altre lezioni e sono uscita dalla classe mi sono messa a piangere è andata così però questa volta è successo durante la verifica ed è stato diverso perché appunto stavo facendo una prova praticamente mi è iniziato a tremare la mano il cuore ha iniziato a battermi molto forte io ero molto agitata molto in ansia non riuscivo a stare seduta ho consegnato per ultima e vabbè ho gestito male i tempi però ho fatto una cosa la domanda sulla rivoluzione francese ho usato il mio bigliettino cioè avevo fatto un bigliettino così più o meno con delle parole chiavi dove mi ero scritta delle parole chiave degli appunti avevo scritto tipo qualche accenno per fare dei collegamenti delle parole chiave mi ero scritta delle parole chiave e l'ho guardato e mi sono sentita tantissimo in colpa di aver tra virgolette un po' copiato quindi aver visto questo bigliettino no? anche se sostanzialmente non ho fatto niente di che perché avevo delle parole chiave scritte però sull'ultima domanda l'ho guardato e mi sento tantissimo uno schifo un disastro per questa cosa l'ho consegnato la prova ho detto esattamente queste parole alla professoressa io gli ho detto io non sono qui per il contenuto perché io sto dando rispetto a chi quando sono nata mi ha creato con queste qualità sto portando rispetto a chi mi ha preparata così non so come dire ma non sono felice cioè sono tornata a casa che sbattevo le unghie sul volante perché dicevo vedi a cosa serve andare bene fare tutto bene io ho dei voti molto alti molto belli magari ve li metto non lo so se poi piango se poi ho questi attacchi di panico se poi succedono queste cose se l'insegnante se la prossima volta che faccio una verifica se mi risuccede che mi viene un attacco di panico posso dirglielo perché non glielo ho detto l'ho gestito per conto mio io sinceramente quando mi sono sentita così prima l'unica cosa che io volevo fare era andare dall'insegnante e volevo alzarmi mentre stavo facendo la verifica andare dall'insegnante e dirgli posso un abbraccio per favore mi sarebbe passato tutto ve lo giuro mi basta solo questo o comunque una parola di conforto non lo so quando sono uscita pensavo che mi fosse passata ho chiesto alla mia amica di rimanere e sono scoppiata a piangere ho detto eh ma pensa se mi succede alla maturità al prossimo anno pensa se durante l'orale mi succede questo e pensa se sto scrivendo il tema di italiano non ce la faccio costruire il tempo sbaglio tutta la prova faccio l'esame orale e mi va male perché dovrei continuare perché dovrei finire perché dovrei andare avanti e poi mi sono ritornate in mente tutte le cose che mi sono successe quando ero al liceo con i miei ex compagni di classe e e quando ero al diurno quando ero alle superiori è stato veramente devastante perché è molto difficile da spiegare e secondo me nessuno lì lo ha capito e nessun professore lì capisce o ragazzo o non lo so compagno io quando ho lasciato la scuola non è che l'ho lasciata perché non sapevo studiare o perché per capriccio io l'ho lasciata perché ero in depressione perché sono stata veramente tanto bullizzata e perché passavo le mattine prima di entrare a scuola in un tunnel con un condominio di avvocati seduta nelle scalette ad aspettare che arrivassero le 7.59 per non vedere i miei compagni e poi entravo in classe ma adesso il problema non è fare le verifiche studiare essere lì impegnarmi partecipare io sono anche molto che stuzio che provoco perché mi interessa dare del filo da torcere a chi ho dall'altra parte che se è un compagno che se è un professore lo faccio sempre con rispetto ma mi piace intervenire io sono nata per fare domande però vado lì e comunque la classe è quella il banco è quello l'ambiente la circostanza è quella e quindi mi ricordo tutto quello che ho vissuto sono persone diverse è un contesto diverso è 3.000 volte un cambiamento però io è come se fossi ancora ferma a quello che mi è capitato una cosa veramente molto triste che io faccio è rimanere nell'aula e nell'istituto il più tempo possibile rispetto agli altri non sono mai se ne accorge di questa cosa ma noi finiamo la scuola la lezione alle 11.25 e spesso tanti miei compagni i miei compagni vanno via prima o perché sono stanchi o perché quel giorno hanno i figli o perché domani lavorano si devono svilare presto insomma sono mille le motivazioni io anche se dopo il giorno dopo ho mille cose a fare rimango sempre lì fino all'ultimo perché è come se stessi dicendo a me stessa è tipo è tipo dire mi sto riprendendo quello che mi era stato portato via stare seduta fino alle 11.25 in punto e non magari alle 11.22 è tipo dire io ho il diritto e mi merito di rimanere seduta in questa serie affido all'ultimo perché quando ero al liceo in quarta superiore non mi era permesso di fare praticamente niente c'era questa forte critica e questa situazione di di bullismo non lo so non lo so che poi ho scoperto di recente che il bullismo se comprovato può essere anche un reato penale e le persone possono andare in mezzo a rogne ma probabilmente anche se l'avessi saputo due anni fa non avrei fatto nulla perché io credo che queste persone agirà il karma su di loro e credo che gli ritornerà tutto io agisco con amore c'è una canzone di Ermal Meta che dice l'amore tutto l'amore che dai compone la tua vita una cosa del genere l'amore che ti arriva costruisce la tua vita non lo so perché ho deciso di raccontarvi questa cosa perché io non so quanto valga la pena continuare a fare questa cosa mi sento molto debole mi succede sempre più spesso di avere questi attacchi di panico mi è successo durante una lezione mi è successo quando parlavo di un mio compagno che ha pilato fuori in me delle cose allora mi è ripartito tutto e io non lo so non lo so come spiegare e faccio anche molta fatica sinceramente a parlarne quindi vorrei tagliare qui corto sono affari miei sono decisioni mie è anche inutile che io me lo stia dicendo a dire la verità ma lo faccio solo per dire che non è che posso continuare così ad avere attacchi di panico o a soffrire io vi veramente vi pubblico i miei voti non è quello il punto ma se poi io sto male se poi io soffro e se poi io non sono felice che senso ha a fare questa cosa un'altra cosa che vi volevo dire che per me è davvero molto importante è questa mi ha veramente spiazzato il commento di una di voi si chiama Ari mi pare ciao grazie per averlo lasciato che veramente non lo so mi ha lasciato senza parole praticamente mi ha scritto mamma mia Anna che bella sei bellissima hai fatto un glow up bellissimo continua così una cosa del genere non mi ricordo ecco un'altra cosa devastante è quando gli altri vedono il bello in te e tu non lo vedi non è che posso dire che non ho attimi in cui non sono sicura o altro certo ma sono molto rari però io veramente vorrei guardarmi vorrei avere i vostri occhi con cui voi guardate me e con i complimenti che mi fate sempre mi riportate sempre perché vivere dentro la mia mente è devastante ieri sera sono andata a letto alle 5 e mezza il cervello non mi si spegneva i pensieri continuavano ad andare io ero fuori di testa non sapevo che cosa fare non riesco a dormire ho problemi con il sonno disturbi con il sonno e questa cosa degli attacchi di panico non è solo dettata dalla verifica mi succede molto spesso io veramente vorrei riuscire a guardarmi con gli occhi con cui vedete voi poi anche prima mi ha detto che io pretendo tantissimo da me stessa io non credo che sia così però forse sono sempre stata molto abituata ad essere tanto a dare tanto e a produrre tanto perché i miei genitori sono sempre stati dei grandi lavoratori quindi poi di conseguenza anch'io sono così però c'è il motivo per cui io parlo a quest'ora e sono qui davanti a voi è per dire che facciamo un esempio no supponiamo che adesso ci sia qualcuno di voi che sta guardando questo video e sta pensando questo questa ragazza soffre e non ha nulla che tra virgolette gli manca o problemi o cioè ha tutte le doti le qualità in linea cazzo magari come vorrei essere lei oppure boh oppure non so come fa non vedere come io la vedo non lo so è bella è perfetta che ne so cioè tu che mi stai ascoltando pensa che io queste cose non le penso però ho continuamente gente su youtube grazie anche tra l'altro siete gentilissimi che mi fa complimenti e io non penso quelle cose cioè fa tanto male io quando ho letto il commento di quella ragazza avrei dovuto essere contentissima avrei dovuto dire madonna che bello cioè mi ha fatto uno dei complimenti migliori che si può fare una persona mi ha detto che sono bellissima e da come l'ha scritto secondo me era inteso sia a livello estetico sia a livello interiore mi ha detto che ho fatto un glow up molto bello quindi probabilmente pensa che io sia maturata mi sia evoluta mi sia sviluppata in tutte le salse e poi mi ha scritto tipo continua così non mi ricordo ma ho riflettuto che forse quella cosa nulla da togliere a te che l'hai scritto ma ho riflettuto che forse questa cosa mi ha fatto più stare male che bene perché io non lo vedo io non percepisco questa cosa non la percepisco è brutto da dire e spero che voi non vi fermerete dal commentare anche se io sto per dire questo ma io ogni vostro commento bello che leggo per me è acqua fresca cioè quando uno mi dice brava Anna sei molto bella Anna continua così Anna che bel video cioè per me perché io non ho non ho autostima non ho grinta mi sto spegnendo sono triste sono moscia sono smoscia sono io ero come ero come un'aquila adesso sono come un lombrico marcio beh volevo fare solo questo video per dirvi che non è che se io ho un canale youtube non mi possono succedere cose di questo tipo mi fate anche tanti complimenti su instagram tantissimi complimenti qui su youtube io non lo so se sono una ragazza bella oppure no e non ciascuno di noi non può giudicare se stesso perché devono essere gli altri a dirti che cosa rappresenti è troppo facile dire a se stessi cosa si pensa di se stessi ma se per caso qualcuno dovesse pensare che io sono bella io non lo penso io non lo vedo io non lo provo io non coloro questa percezione non mi risuona non penso di rispecchiarla e il fatto che però mi venga detto io non penso questa cosa veramente è veramente veramente devastante ho fatto molto ridere prima la chiccherata che ho fatto con la mia amica perché lei mi fa che sta passando un periodo dove si arrabbia molto spesso e che quindi cerca di capire il motivo per cui si arrabbia e cerca di non arrabbiarsi per nulla e io gli ho detto ma stai ma dai tu sei una donna leone non ti può schiacciare nulla scalfire nulla io sono una donna acquario sono come il vetro adesso mi stai a ridere perché siamo ragionati la scena boh è solo per dire che cioè io veramente adesso non so che cosa arrivi a casa che cosa arrivi da chi mi guarda dallo schermo ma io veramente sono una persona come tutti anzi forse sono una persona ancora più umana forse degli altri perché riconosco quello che vivo ho una sensibilità molto profumata e e ascolto tutte le emozioni che mi arrivano però vi giuro che è devastante io veramente ho avuto un attacco di panico molto brutto prima e cioè veramente tu immagina che sei lì fai lezione e a un certo punto inizia ad essere triste dal nulla inizia ad avere gli occhi lucidi inizia a sentirti un magone qua che ti parte e ti scende inizia ad agitarti ad avere una agitazione sul posto e devi mantenere un controllo perché sei in una situazione in un contesto dove ci sono anche altre persone hai paura degli altri non sai stare con gli altri io ho ancora i postumi del covid non riesco a fare benzina perché mi vergogno di essere vista non riesco a guardare negli occhi tipo i ragazzi perché perché mi vergogno di essere guardata io sono molto onesta è un momento questa sera devastante vabbè volevo solo dirvelo ci tenevo a fare questo video non serve a niente averlo fatto però ci tenevo a perché magari una persona prod sul mio canale no e rimane abbagliata dall'apparenza come uno specchio come la pelle lucida di un serpente dice che bella ragazza che bei contenuti ha la sua community il suo fandom puoi aprire questo video e vedere come stanno realmente le cose a me non me ne frega di quello che pensa la gente perché altrimenti non avrei aperto un canale youtube a me interessa far capire alla gente che le persone stanno male ma sì stanno anche bene io non vi ho mai escluso i momenti belli vi ho portato anche alla vittoria del concorso di Achille e Lauro l'anno scorso il mio concorso di poesia ma cioè a me interessa che la gente capisca che si sta male perché è troppo normalizzato il perfezionismo gli attacchi di panico non sono uno scherzo io prendo anche delle medicine che non fanno niente però è tutto un discorso fare gli incubi io faccio tantissimi incubi ogni notte e svegliarsi ogni giorno pensando di aver vissuto una realtà poi rendersi conto che quella non era la realtà ma la realtà è un'altra ripartire far ripartire tutti i tuoi processi mentali dove tu sei fermo a quello che hai vissuto durante la notte poi anche le speranze in amore cioè tu pensa no? mettetevi in i miei panni mettetevi in i miei panni mi fate tanti complimenti e io non riesco a trovare la mela non riesco a trovare il ragazzo ho molte avance ma le persone che ci provano con me a me non gli interessano e le persone che interessano a me la cosa non è ricambiata o ci sono mille casini ogni volta e però anche tipo la cosa che mi mi sorprende molto è anche fuori nel nella cioè vado a fare la spesa ma che bella ragazza ma che bella giovinotta mi ha detto uno mi ricordo un altro mi ha detto wow che bello sentire questi discorsi maturi da una ragazza perché ero la spesa stavo pagando stavo facendo una spesa stavo pagando e ho detto che secondo me i giovani di adesso sono focalizzati solo su il corpo sul possedere e non sul corteggiare su tutte queste cose ho fatto un discorso mentre pagavo e mi hanno fatto i complimenti ma io non ho detto niente di che però mi hanno fatto i complimenti tipo per il ragionamento per la maturità che avevo avuto quando avevo raccontato questa cosa vabbè voi pensate che adesso io vabbè mi struco mi faccio la doccia mi lavo i denti appoggerò la mia testolina nel cuscino triste farò questo chiudo gli occhi e dico domani non mi aspetta niente no però è stato devastante avere questo attacco di panico oggi intanto non me lo aspettavo minimamente e poi mi sono messa veramente a piangere nelle scale della scuola e non finivo più non lo so e anche alla professoressa io gli ho detto io non lo so se tra un mese sono ancora seduta vi ricordate il video che ho fatto del mare ve lo ricordate io non lo so come andrà questa esperienza sono stanca di avere questa pressione della gente che mi dice devi arrivare alla maturità io ci arrivo se mi va se ce la faccio io non è che posso star qua avere attacchi di panico star male e cioè la gente dovrebbe avere un po' più di empatia sinceramente io sono veramente stanca di sentirmi giudicata io mi sento giudicata anche quando arrivo a casa e parcheggio la macchina mi sento giudicata nel paese in cui vivo ed è un buco di paese mi sento costantemente osservata come se avessi gli occhi addosso mi sento in grabbia mi sento come una pressione al collo non mi sento libera ed è un po' radosso perché in tante altre cose io lo sono ma a livello di emozioni di cuore no vado a bere un bicchiere di succo con l'albicocca un bicchiere di succo